2 milioni di euro sono stati stanziati dalla regione Galabria per consolidare la rete della ciclovia sul tracciato dell'ex ferrovia. Le due ruote stanno vivendo una stagione d'oro. Il Parco Nazionale del Polino crede fortemente che questo sia un nuovo trend per i viaggiatori che scelgono la bici e le ciclovie per attraversare aree incontaminate e procedere a passo lento per apprezzare paesaggi, borghi e tutto ciò che attorno ad essi si muove. Questo asset di turismo verde vede nel Parco uno dei parchi nazionali italiani che più stanno costruendo infrastrutture sostenibili per attrarre cicloturisti. L'investimento di altri 2 milioni di euro stanziati dalla regione Galabria servirà a continuare il tratto di ciclovia che da Campotenese arriverà fino a Mormanno e che si aggiunge a quello già compiuto che partendo da Morano Calabro arriva proprio alla porta naturale del Polino sul versante calabrese. Tratto che sarà inaugurato il prossimo 24 maggio in occasione della giornata europea dei parchi per consolidare l'attenzione del Polino a questo tipo di esperienza sostenibile.